Gli scavi sono stati diretti dal professore Salvatore De Vincenzo che è impegnato in attività di studio d'Erice dal 2008 ed in questi 15 anni l'archeologo De Vincenzo ha portato avanti un'intensa attività di ricerca in diversi siti a partire dal Casito di Venere e lungo le mura e limopuniche ed in quest'ultima campagna di scavi sono emersi diversi elementi sulla fondazione della cinta muraria quando Erice divenne città mentre precedentemente era un insieme di villaggi. Anche quest'anno abbiamo ripreso la campagna di scavi a Erice, quest'anno ci siamo concentrati lungo la cinta muraria o meglio abbiamo ripreso gli scavi alla cinta muraria che già avevamo indagato in anni precedenti era nostra intenzione quest'anno indagare il castello, quindi il cortile del castello dove stanno venendo la luce i resti del Tempio di Venere e Ricina solo che le attività di restauro non consentono quest'anno di indagare e quindi abbiamo ripreso e approfondito alcuni settori che avevamo già in mente di ulteriormente indagare, approfondire e valorizzare. Nello specifico abbiamo indagato i livelli precedenti l'impostazione della cinta muraria e quindi abbiamo trovato tutta una serie di frequentazioni, capanne, lastricati eccetera che risalgono al VI secolo, all'inizio anche del VI secolo a.C. Sulla distruzione di questi contesti abitativi di una Erice precedente alla cinta muraria viene poi impostata a inizio del V secolo a.C. la cinta muraria realizzata con i blocchi ciclopici che vediamo, i cosiddetti blocchi ciclopici che vediamo alle mie spalle. Ebbene, questo tipo di organizzazione muraria si riferisce alla prima fase costruttiva del sistema difensivo di Erice. Quindi a inizio V secolo Erice, precedentemente abitata, frequentata con un abitato sparso di capanne lungo tutto quanto il pianoro, si coagula all'interno di una struttura questa volta a carattere cittadino, una polis, la polis di Erice, che quindi viene fondata a inizio del V secolo a.C. come appunto le mura ci consentono di datare. Perché noi abbiamo indagato i livelli di fondazione delle mura e quindi statigraficamente è datato per la prima volta la cinta muraria di Erice a inizio del V secolo. Perché parliamo di fondazione di città in relazione alle mura? Perché le mura non hanno semplicemente una funzione difensiva nel mondo antico ma hanno una funzione fortemente identitaria di quello che è il carattere di una città. Quindi nei momenti in cui uno spazio viene cinto e difeso da una cinta muraria ecco che quello spazio si connota necessariamente come città. E grazie agli scavi e agli studi condotti in questi anni sono stati individuati i diversi periodi di costruzione delle mura e limopuniche di Erice. Prima di indagare i livelli di fondazione abbiamo studiato le architetture, l'alzato di tutto quanto al sistema difensivo. e abbiamo distinto cinque tecniche murarie sovrapposte che nel tempo quindi a seguito di distruzione, ricostruzione eccetera sono sovrapposte. E quindi abbiamo indagato i livelli di fondazione di due soprattutto di queste tecniche la prima e la seconda che si conservavano nei livelli più bassi dove era possibile indagare i livelli di fondazione. La prima tecnica quindi le mura più antiche sono realizzate con questi blocchi ciclopici, con questo zoccolo di blocchi ciclopici su cui poggiano dei blocchi sempre di enormi dimensioni ma di forma leggermente più regolare. Una seconda tecnica invece, quindi questa è di età elima, quindi di inizio V secolo a.C. Un'ulteriore tecnica è realizzata con blocchi invece più regolari, con filari maggiormente orizzontali e blocchi naturalmente più piccoli. Quindi questa tecnica edilizia l'abbiamo datata, diciamo su base statigrafica, nel corso della prima metà del III secolo a.C. Ora la prima metà del III secolo a.C. sappiamo che è un contesto storico particolarmente importante nell'ambito del quale si intrecciano tutta una serie di significative vicende storiche. Quindi abbiamo innanzitutto il 277, l'assedio di Pirro, che arriva qui ad Erice, assedia e prende Erice. Quindi a secolo dell'assedio immaginiamoci sia una distruzione parziale delle mura. C'è poi la guerra punica che inizia nel 264 e quindi noi collochiamo la seconda fase, quella con i blocchi più regolari, proprio in questo ristretto range cronologico, tra il 277 e l'inizio della prima guerra punica. Sappiamo anche infatti che durante la prima guerra punica Amilcare sposterà gli abitanti di Erice nella città di Trapani e distruggerà le mura proprio per non lasciare la città in mano ai romani. E da quel momento in poi la città non sarà più abitata. Quindi ecco, è in questa fascia molto stretta tra l'assedio di Pirro e la prima guerra punica che probabilmente va a inserirsi la seconda fase costruttiva.